www.feyyaz.tv Se non abbiamo bisogno di essere sbagliato, si prendono un po' di rispettura, perché si prendono le cose e non si prendono. Non si prendono le cose, se lo prendono in un po' di rispettura, ma non si prendono le cose, perché si prendono la macchina e non si prendono i piedi. Ma vieni a farlo, vieni a farlo e vieni a farlo, ma non si prendono le cose in campo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Buongiorno a la zona arqueológica, mi nombre es Jorge Rios, soy el jefe de la zona arqueológica y en este día estamos iniciando actividades en esta cartelera que hemos denominado VIOBAF, Festival Vivo de los Muertos, aquí en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla como con algunos eventos en la ciudad de Oaxaca. Este evento es coordinado entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Oaxaca y el Honorable Ayuntamiento de San Pablo Villa de Mitla. Buongiorno a la ciudad de Oaxaca attività che si hanno planeato dentro del Festival di la Muerte in Litla, Yovà. Ma che in questo momento faremo la inaugurazione del altar municipal e della seconda parte della muestra che potrete vedere in la zona arqueologica e qui nel Palacio Municipal della Exposizione Temporal Litla, Ciudad de las Almas. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.